Buongiorno e buon lunedì. L'ultimo lunedì di questo 2015, ci accingiamo ormai al Brindisi per accogliere il nuovo anno, il 2016. Dunque inizia una nuova settimana, inizia come sempre in compagnia di Mattino 6 e della nostra rassegna stampa. Si segue un weekend nel complesso molto positivo per i colori abruzzesi perché hanno vinto sia Pescara che Virtus Lanciano. L'ultima giornata di andata di Serie B, la giornata che precede la sosta, si tornerà in campo il prossimo 16 di gennaio. Ma molto bene anche nel basket di A2, sia la McEnergy Roseto che la Proger Chieti, entrambi hanno vinto. Il Chieti è tornato a vincere in trasferta in uno scontro salvezza, uno scontro diretto come quello di Matera. Per quanto riguarda la McEnergy Roseto è tornata a correre la squadra di Trullo dopo lo stop dell'ultima giornata, battendo in casa Recanati. Molto bene anche la Seco Service Ortona che ha vinto in tre set sul campo del Tuscania, rilanciando ulteriormente le sue quotazioni in classifica. Come sempre, prima di vedere e di dare l'ampio spazio allo sport il lunedì, partiamo con la cronaca, con le prime pagine delle testate nazionali per poi arrivare ai quotidiani locali. Ora spazio alla prima pagina del Corriere della Sera, blocchi e misure, lo smog diventa un caso politico. Nelle città, vertice con i sindaci, Milano si ferma e Grillo accusa. C'è l'editoriale di Angelo Panebianco, il sistema elettorale, l'Italicum è il minore dei mali. Poi la fotonotizia, il caldo, il tifone, l'alluvione, l'irresistibile ansia da meteo, terrorismo, la resa dell'ISIS a Ramadi, torna la bandiera irachena, fuga dei miliziani, un fronte di 30.000 soldati. E poi in basso liceale a 45 anni, la mia seconda vita, il padre le impedì di studiare, il primo giorno in classe scambiata per una prof. La prima pagina ora della Repubblica, che apre così, allerta nelle capitali gentiloni, l'ISIS pronto a colpire ancora il ministro, ma in Iraq sta perdendo, il califo minaccia Israele, Vienna lancia nuovi allarmi, sventato, attentato a Sarajevo. Lo sport sotto la testata, Prandelli, l'ex CT rifugiato tra gli ulivi, Inter e Juve, viste dal mio trattore. E poi ancora il meteo è un po' l'argomento caldo, per usare un linguaggio appropriato, anche se siamo nella stagione del freddo, ma è l'argomento caldo, l'argomento di questi giorni. Gli stop alle auto fanno discutere, la battaglia dello smog divide Roma e Milano. Poi c'è il fondo di Eugenio Scalfari, il mezzogiorno è povero, ma c'è, il governo invece non c'è. In taglio medio il fisco sarà precompilato per altri 10 milioni di italiani. Parla la Orlandi, tornano i dubbi sul contante. Poi l'appello, il grido del Papa sui cristiani perseguitati, Filippine, nove morti. Poi ancora i salvataggi, scandalo banche, via alla vendita dei quattro istituti, risarcimenti a rischio. E poi in basso la storia, il grande Satana e gli ostaggi da 10 mila dollari al giorno. Il caso, addio ai botti da Cortina a Bari, si spegne il capodanno. E poi Franca Viola, sfidai la vergogna, è il mio stupratore, è l'Italia, cambio. Visto questo richiamo sul fondo di prima pagina della Repubblica, passiamo alla prima pagina invece del giornale. Il crack del credito, Renzi deve pagare il conto, l'Europa esenta le nuove banche dagli indennizi ai clienti truffati, ma la Costituzione e il Codice Civile inchiodano il governo. Poteva salvarli e non l'ha fatto, ora li riscarica. E poi c'è l'editoriale di Salvatore Tramontano, c'è voglia di centrodestra ma unito, l'unica alternativa al PD. Tornando al centro, emergenze e polemiche da caso milanese a casino nazionale, lo smog diventa la nuova psicosi. Rischio caos, Roma la solita farsa di capodanno, servono 1100 vigili, ce ne sono 300. E poi controcorrente, Fazio il chierichetto milionario diventato papa del buonismo in TV. E poi ancora in basso, fenomeno in crescita a scuola ma sul divano di casa, ecco chi studia senza voti né prof. Agenzie specializzate, gli 007 a caccia di vecchi zii scoprono se ci spetta una eredità. E poi frontiere Colabrodo, segnalati mille passaporti falsi. Il piano dell'Isis per conquistare Roma, sequestrato un manuale, ci aiuteranno i balcanici. E l'Alto Adige diventa un bengodi jihadista. In basso, a Dinolfise, una telefonata accorcia la carriera. Addio alle fiamme gialle dopo le intercettazioni col premier. 20 mesi di carcere preventivo, niente processo, niente auguri. La galera crudele di Cosentino. Andiamo a chiudere con la... o meglio, non a chiudere perché ne abbiamo altre due di prime pagine da vedere. C'è ancora il Fatto Quotidiano che apre così 25.000 sfumature di smog, polvere. Ritornerete il numero delle vittime da inquinamento in un anno. E poi, sotto la testata, a Taranto, compriamo l'Ilva se ci garantite impunità su sicurezza e demissioni. Il gruppo Arcerol Mitta è la stretta del governo. Sono banche, cracchetruria, commissione al palo, traccolle e scheletri. Oggi il PM aretino processato dal CSM. Alla fotonotizia, il volto del potere. Un anno di scandali svelati dal Fatto Quotidiano. E poi ancora, i pentiti, i veri segreti dell'endrine sulla mia pelle. 2015, addio da Shining all'Uva, missione Capodanno. Chiudiamo in basso, con il Fatto Quotidiano, il nostro strabismo sull'Islam. Come leggiamo, interpretiamo e divulghiamo cultura e religione. E ora andiamo a vedere la prima pagina del messaggero. L'argomento principale resta quello appunto del clima e dell'inquinamento atmosferico. E infatti, il governo, smog, regia unica, convocati comuni e regioni, basta andare in ordine sparso. Grillo, i morti, colpa dell'esecutivo, ancora allarme nelle città, pressing di Renzi, via i mezzi inquinanti e fondi per i trasporti locali. Sotto la testata, l'apertura, Cina dopo 35 anni si chiude l'era del figlio unico obbligatorio. L'intervista all'ex CT Marcello Lippi, sono pronto a tornare, chi mi manca di più, Totti. E poi c'è l'editoriale di Silvio Garattini, le quattro cause, i veri numeri e le speculazioni sui morti in più. E poi ancora, bollettini e numeri, lezioni inutili sul lavoro dall'Europa. Al centro, i decreti della pubblica amministrazione, le società partecipate riformano il via, un terzo verso cessione o chiusura. La fotonotizia, Iraq, la grande fuga dei miliziani ISIS, l'esercito conquista Ramadi da sette mesi nelle mani del califato. Più direttori stanieri per i musei italiani e sponsor per l'arte. L'intervista al ministro Franceschini, il progetto va avanti e subito 13 milioni per la Domus Aurea. E poi vale 18 milioni, Parlamento record di cambi di casacca. Chiudiamo in basso, Etruria, le perdite nascoste del bilancio e poi questo fatto che ritroveremo anche sui quotidiani sportivi nazionali. Dopo le minacce mafiose, protezione alle calciatrici di Locri, Malagò le voglio subito in campo. E ora passiamo al centro e vediamo le quattro prime pagine. Partendo dalla prima pagina dell'edizione di Chieti, Policlinico con l'eliporto Trappola. Chieti, Paolucci annuncia tagli degli ospedali e potenziamento del soccorso con gli elicotteri del 118, ma lo scalottiatino è bloccato dal megaparcheggio e da un cancello. Di fatto sarà fuori legge. Poi di spalla c'è l'intervento. Il geologo che dice i veri nemici del mare restano in libertà. Dopo il no del governo alle trivellazioni mare entro le 12 miglia ci scrive, scrive al centro per meglio dire, un geologo che opera per la Petrol Celtic, una delle società che sarebbero colpite dal provvedimento. La fotonotizia, Virtus Lanciano e Proger Chieti, domenica trionfale per il calcio di Serie B e il basket di A2. Nelle foto vediamo Marinungo della Virtus Lanciano e Armwood della Proger Chieti, e poi richiami di cronaca, gang di ladri fa sparire oltre 20 tombini e restano solo i buchi, tutto questo a Chieti. Abbasto, incidente in via Estonia, schianto pauroso nella notte con l'auto a gas e poi l'editrice storica, la carabba vittima dei tagli del comune a Lanciano. Il Buongiorno Abruzzo di Dino Venturoni, Marta, torna nel presepe dopo 25 anni. L'edizione dell'Aquila, processo al buttafuori eroe, salvò una ragazza semi-assiderata davanti a una discoteca e fece arrestare il violentatore, ora è accusato di aver ferito un giovane usando metodi troppo energici durante una rissa. La fotonotizia a Castel di Sangro, nella frazione di Rocca 5 Miglia, è un Natale speciale per i 56 profughi africani. A L'Aquila sempre grave il bimbo ferito nello schianto, presi dopo il furto pagano la merce per restare liberi e poi ad Avezzano sfrecciano i tirri in centro ed è polemica. La prima pagina dell'edizione di Teramo, l'Europa mette in crisi gli ospedali, le nuove norme sui turni di lavoro di medici e paramedici comportano una riduzione dei servizi. A Santomero l'attività chirurgica programmata è sospesa già da una settimana. Il basket nella fotonotizia, il rossetto torna a vincere con un allen stratosferico, 42 punti per il bomber americano. Poi i richiami di cronaca, a Teramo lavori in ritardo salvi i fondi per Colle Parco, la commemorazione Gran Sasso via e Vetta dedicate a Sabatini, tassa di soggiorno no anche dagli artigiani. Andiamo ora a vedere la prima pagina del centro dell'edizione di Pescara. Poi scorreremo insieme le pagine del quotidiano che appunto nell'edizione di Pescara dà ampio risalto alla vittoria con cui ieri i biancazzurri di Oddo hanno chiuso il girone d'andata. Il Pescara fa i botti e quarto a Latina decide un gol di Memushai, poker di vittorie di fila. E poi c'è il punto, il commento di Rocco Coletti, un filotto da sballo sognando la Serie A. E qui nella foto uno stacco, un intervento difensivo di uno dei protagonisti di ieri, Ugo Campagnaro, con lui in campo. Il Pescara ha sempre vinto e non ha mai preso gol se non a Lanciano. Partita ovviamente anche quella vinta. Richiami di cronaca, a Redi risulta il progetto all'ex stazione Verde Negozi e parcheggi. Filmati gli autori, rogo davanti alla Rai, due i responsabili. Oggi ci saranno ulteriori dettagli in merito per i quali vi rimandiamo al Tg6 delle 14. Due denunciati con trabando di sigarette dall'Ucraina. Possiamo entrare allora all'interno del centro, la pagina 9, appunto la pagina sull'Abruzzo, in particolare dedicata al Consiglio regionale perché parte la maratona bilancio rischio-ostruzionismo. Oggi previsto il varo in commissione, domani l'esame in aula all'emiciclo, presentati migliaia di emendamenti. Paolucci trasferisce 235 milioni alle ASL. E poi ancora in basso, parola al Movimento 5 Stelle, Marcozzi attenti all'inceneritore. Il governo insiste nel piano nazionale che include anche l'Abruzzo. Riforma porti, la consulta, siano coinvolte le regioni. Bocciato un articolo dello Sblocca Italia. Nuovo incarico da Alfonso propone Maria Antonietta Piccardi alla guida del Dipartimento Trasporti e Logistica della Regione. E poi ancora, a Pacentro, la teleferica mobilita gli ambientalisti. La stazione ornitologica abruzzese annuncia un esposto contro il progetto di zipline. È un pericolo per specie protette come l'Aquila Reale o il Lanario. E poi ancora, arriviamo nelle pagine di Pescara e Provincia. Qui siamo a Pescara città. Il progetto per le aree di risulta verde, negozi e parcheggi nei 13 ettari dell'ex stazione. Svelato lo studio condotto da una società di Padova per conto del comune, via Bassani e il terminal bus verranno interrati. L'operazione costa 12 milioni. Qui abbiamo una tabella con anche una foto dall'alto con il riepilogo, il sunto del progetto di riqualificazione dell'ex area di risulta. E poi, anzi, dell'area di risulta ex stazione per essere più corretti. Poi, i divieti a partire da gennaio, targhe alterne in tutta la città, ecco il piano contro le polveri. Mercoledì 30, riunione in comune con ambientalisti, associazioni di categoria, ASLE e aziende di trasporti per decidere ulteriori misure restrittive alla circolazione. Ancora la cronaca, rogo davanti alla RAI. Autori identificati, le telecamere incastrano i due responsabili dell'incendio di sabato in via di Amicis. I carabinieri escludono la pista estorsiva. Poi, pista ciclabile in via Moro a rischio di posti di lavoro. Due aziende temono grevi ripercussioni con gli espropri per realizzare l'opera. La ditta di trasporti Soget critica il progetto e chiede lo spostamento del tracciato. E poi ancora erano in attesa di quattro mensilità a tirocinio. La regione sblocca i compensi per 25 disabili. Il degrado a Borgo Marino Sud, infiltrazioni e muffa negli alloggi. Le caseate in stato di abbandono. Cerolini di Forza Italia lancia l'allarme. Un carico di doni dell'AIL per i piccoli ricoverati. L'associazione ha consegnato in ospedale i regali messi a disposizione dalla Sevel. Nei prossimi giorni toccherà anche ai bambini ospiti di orfanotrofi e case famiglia. Poi ancora in basso l'iniziativa di solidarietà alla stazione. Arrivano i regali natalizi per gli extracomunitari. Ancora avanti, a Montesilvano, sigarette dall'Ucraina. Due denunciati, sequestrati dai carabinieri, più di mille pacchetti. Torna il contrabando delle bionde. E poi dopo la vicenda del disabile derubato in casa, cresce l'emergenza furti a Francavilla. In basso, in migliaia per vedere il presepe vivente, la nascita di Gesù, rievocata da 230 figuranti a Spoltore, gli abitanti hanno contribuito alle spese. E poi oggi i funerali è morto a 88 anni il tenore lirico Settimio Rapattoni. La pagina di Chieti, vedremo le pagine di Chieti, l'Aquila e Teramo del centro. Poi andremo a fare il break meteo con Giovanni De Palma, prima di passare al messaggero Abruzzo. La GAF della sanità, Policlinico Leliporto, è una trappola. Paolucci annuncia tagli degli ospedali e più elicotteri del 118, ma lo scalo di Chieti è bloccato dalle auto. Ecco le soluzioni. Qui una foto dall'alto appunto dell'area interessata. in basso, gang ruba 20 tombini in città. Il comune denuncia e i carabinieri indagano sulla razzia di coperchi spariti. E poi la foto del giorno, i 101 giorni della protesta anti-terna. La pagina dell'Aquila, il buttafuori eroe, finisce sotto processo. Galli, accusato di metodi troppo energici per riportare la calma in un locale, tre anni fa salvo la vita a una ragazza semiassiderata davanti a una discoteca. è stato denunciato da un giovane. E poi schianto, sempre grave, il bimbo a Paganica, l'incidente forse per un malore del padre del piccolo che guidava l'auto. E poi in basso, sit-in davanti a Banca Etruria, domani alle 11 a Pizzoli, iniziativa di noi con Salvini per tutelare risparmiatori beffati. Grandi rischi, nuova polemica, nel mirino due senatori del PD, centofanti, familiari delle vittime, dell'associazione, insomma. Assurdo che si difenda De Bernardinis. E poi la pagina di Teramo, la nuova legge sui turni di lavoro, mette in difficoltà gli ospedali, stop orari di servizio prolungati e obbligo di riposi compensativi per la carenza di personale, si è ridotta ovunque l'attività chirurgica programmata a Sant'Omero, si è addirittura azzerata. E poi in basso, no degli artigiani alla tassa di soggiorno, confartigianato contro un'iniziativa lanciata dal comune di Giulianova, pagheranno le imprese. E poi il progetto a Pineto, via al gemellaggio, con due città dell'Est Europa. E allora ci fermiamo con la nostra rassegna per qualche minuto e andiamo a salutare e dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Ah ok, allora stiamo approntando il collegamento e quindi andiamo subito a vedere la prima pagina del messaggero Abruzzo. Dopodiché andremo con il collegamento. Ecco la prima pagina del messaggero Abruzzo. Caccia ai ladri nella notte. Chieti, malavita scatenata, salto fallito a un distributore, malviventi inseguiti dai carabinieri, una lunga corsa quando i militari stanno per prenderli, lasciano l'auto e fuggono a piedi nei campi. Sotto la testata si parla di sport, volei di A2, Siego travolgente, Tuscania costretta alla resa 3 a 0, basket di A2. Chieti e Roseto chiudono alla grande doppio successo. Poi si torna alla cronaca. Pescara, rogo davanti alla sede RAI, individuati i responsabili. Momenti di paura in pieno centro, distrutti 5 motorini e 4 vetture, i due autori del gesto vandalico scoperti dalle telecamere installate nella zona. E poi, comuni della Maiella, il futuro è accorparsi i piccoli centri, non ce la fanno più. La proposta parte da Salle, un paese in provincia di Pescara. E poi, la fotonotizia, sono due le foto in realtà in questo caso, perché sono due le vittorie abruzzesi in serie B. Pescara e Lanciano, che festa. Poi ancora, centropagina, Teramo, commercio alle corde, addio shopping delle feste, su Facebook è polemica, la città si merita questo. Pescara è piena di gente. A proposito di Pescara, Befana in anticipo per i baby pazienti. Tutto questo grazie all'Ail di Pescara-Teramo. Avezzano, Palazzo Torlonia, il grande ritorno. E allora, possiamo effettuare il nostro break meteo, dando il buongiorno a Giovanni De Palma. Ciao Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E questa mattina sulla costa ancora un po' di nebbia? Eh sì, eh sì, prosegue, perché Andrea prosegue il dominio dell'alta pressione, che favorisce la formazione appunto di strati nebbiosi, soprattutto sul vessante orientale della nostra regione, quindi lungo la fascia costiera, e sulle zone collinari, dove nelle prossime ore continuerà ad insistere la nebbia, anche se è prevista nel temporaneo digredamento. C'è da segnalare la possibilità di qualche piovigile, soprattutto sulle zone collinari, dovuto proprio alla presenza di nebbia fitta. Nebbie anche nelle valli interne dell'Aquilano, mentre sulle zone alto collinari e montuose splenderà il sole, ci sarà un clima piuttosto nite, insomma sarà una bella giornata, ma soprattutto soltanto, quindi sulle zone alto collinari e montuose. Non cambierà di molto la situazione neanche nella giornata di domani, ma fino al fine anno Andrea, l'alta pressione continuerà a proteggerci dall'arrivo di perturbazioni atlantiche, ma ci sono delle piccole novità. Innanzitutto è prevista l'attenuazione dell'alta pressione nei primi giorni del nuovo anno e aggiungeranno delle perturbazioni atlantiche. Fortunatamente, dico perché le perturbazioni atlantiche, se non altro, favoriranno un rimescolamento delle masse d'aria nei bassi strati, perché in queste ultime settimane c'è un accumulo notevole purtroppo di inquinanti, soprattutto nelle grandi città e anche sulla nostra regione, quindi anche le maggiori città della nostra regione risentono dell'accumulo delle sostanze inquinanti. Quindi queste perturbazioni, se non altro, favoriranno un rimescolamento delle masse d'aria. Altra novità da segnalare è il deciso raffreddamento dell'Europa orientale a causa di un'intensa colata di aria artica che praticamente raffredderà gran parte del continente europeo. Quindi questa è un'altra novità da segnalare. In prospettiva non si prevedono però, almeno per il momento, Andrea, irruzioni fredde sulla nostra penisola, soltanto l'arrivo di perturbazioni atlantiche che, come ti dicevo prima, favoriranno fortunatamente non solo delle precipitazioni che la nostra penisola ci vogliono in questo periodo, ne abbiamo bisogno, perché non piove da oltre 60 giorni su diverse località, centro della nostra penisola, quindi in particolar modo al centro nord, ma soprattutto, ripeto, favoriranno il rimescolamento delle masse d'aria. E questa è una buona notizia, Andrea. Eh sì, dopo tutto abbiamo visto proprio questa mattina tante prime pagine dei quotidiani nazionali che parlano di questa sorta di psicosia ormai legata all'inquinamento, allo smog, all'accumulo di polveri sottili. E chiaramente quello che tu ci stai dicendo dovrebbe aiutare un po' a allenare questa sorta di emergenza. Prima di congedarti però, Giovanni, ti avevo promesso la settimana scorsa ti ho promesso di chiederti un bilancio sulla stagione del tuo Pescara. Allora, cosa pensi anche alla luce della vittoria di ieri a Latina? Si chiude un 2015 assolutamente positivo? Assolutamente sì, Andrea. Un bilancio positivo per la formazione pescarese perché adesso la Pescara è quarta in classifica ma ha giocato, ultimamente ha migliorato tantissimo, ha migliorato il rendimento. Quindi è la squadra che ha fatto più punti in questo anno da come, se non ricordo male, ha fatto più punti e ha segnato più reti. Una formazione che sta trovando l'equilibrio giusto perché effettivamente tante volte il Pescara ha buttato all'aria delle vittorie scontate. Invece adesso, tipo quelle con la Spezia, quando doveva stravincere, invece è uscito fuori soltanto un pareggio. Ma ultimamente il Pescara ha cominciato a vincere anche soffrendo, soffrendo di più, ma insomma questo vuol dire che comunque c'è una grande squadra sotto perché quando vinci soffrendo vuol dire che c'è un gruppo compatto e la squadra rende molto di più. Quindi sta crescendo questo Pescara. Adesso vediamo cosa accadrà in questo periodo con il calcio mercato. Vediamo un po' se il Pescara riuscirà, la società riuscirà a limare quelle piccole zone da sistemare, tipo il reparto difensivo, dove c'è Campagnaro sì, ma se non c'è Campagnaro poi le vittorie riescono a malapena ad arrivare. Quindi c'è soprattutto da sistemare, a mio avviso, la difesa. Localmente poi bisogna vedere anche in attacco cosa c'è da dire riguardo a Cocco che dicono che è poco soddisfatto. Io credo che comunque bisogna lasciare le scelte comunque al nostro allenatore. Andrea. Grazie Giovanni, io ti ringrazio e ti auguro un buon lunedì e ti faccio sin da ora gli auguri di buon anno visto che insomma noi di mattina ci risentiremo con Mattino 6 nel prossimo anno almeno per quanto mi riguarda poi farai collegamenti anche con i colleghi della redazione. Per ora grazie, buon lunedì e buon anno. Grazie Andrea, allora buon anno a te e buona giornata a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Sfogliamo le pagine del messaggero Abruzzo poi andremo in pubblicità. Bancomat al Torrione, aggredita un'altra donna giovane picchiata da tre stagneri prima del prelievo. Sconvolgente episodio nella mattinata di Santo Stefano. I banditi fuggiti a bordo di un SUV. La sentenza botte alla compagna incinta condannato sei anni all'uomo per pugni, schiaffi e calci. E poi escursionista cade, arrivano due elicotteri padre e figlio romani stavano camminando lungo la direttissima. E poi Cialente chiederemo alle imprese di investire. E poi la pagina della Marsica ad Avezzano Palazzo Torlogna e i giardini tornano alla città. Definitivamente varato in questi giorni l'accordo tra Giunta regionale, Consiglio e Comune di Avezzano. Di Pangrazio ci metteremo luoghi di cultura come la Pinacoteca, l'Università e Uffici per il Lavoro. Il luogo dove sarà rappresentata l'identità della gente marsicana. Sempre ad Avezzano, terremoto nei partiti. Cambiano Forza Italia, PD e noi con Salvini. Polemiche anche tra i Democrat e Angelo Sante. Defenestrato ora prepara una vendetta. A Pescara, Rogo, Alarai, i piromani sono due. Si stringe le cerchi intorno agli autori dell'incendio che l'altra notte ha distrutto 5 motorine e 4 vetture. La vicinanza di un obiettivo sensibile ha fatto scattare la massima allerta. Ma è stata esclusa la matrice terroristica decisiva per i carabinieri l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza. Le indagini puntano sulle strade della Movide. Poi festa in ospedale con i baby pazienti. La Befana scarica furgoni di giocattoli. L'AIL nelle corsie di ematologia e degli altri reparti pediatrici. Grazie al sostegno della Sevel. Pagina di Chieti. Sventato un colpo alla Kuwait. Ladri sfuggono alla cattura. Rocambolesco in seguimento nella notte. I banditi costretti ad abbandonare l'auto. Il pronto intervento dei carabinieri. Dopo l'allarme ha evitato il peggio. Preso di mira un distributore di benzina, Chieti Scalo, a Villanova. La fuga finisce nei campi. Bando trasparente per le case popolari. Sempre a Chieti dopo lo scandalo di Sex for House. Si vuole riportare legalità e chiarezza nell'assegnazione degli alloggi. A Vasto, a Canile, gestione confermata. Ora la struttura per il futuro. Poi a Ortona, Dragaggio, si affida il maxi appalto. Aggiudicato a Unati, composta da Mariter, Dragaggi e Sapis Engineering. Al porto vanno scavati 600 mila metri cubi. Pagina di Teramo. Lo shopping delle festività in calo. Scoppia la polemica. Da Rui, della Confesercenti, ormai si applicano già gli sconti dei saldi. Vanno bene gli acquisti online, quelli per i libri. Flessione alimentare. Tiziano Lattanzi di sottosopra non è più come una volta quando si aspettava il Natale per rivestirsi. Poi ancora a Giulianova, presepe vivente, successo, ma anche proteste e furti. Scene suggestive partecipate, ma centro storico ridotto in pessime condizioni. Strade sporche. A Giulianova sempre civicamente resta divisa. Oggi si vuota un documento. In basso la pedana per i disabili finisce contro un albero. I lavori realizzati nella villa comunale scatta la protesta delle associazioni. E il comune, che non è a norma, sempre a Teramo. Ci fermiamo qui. Abbiamo finito le pagine della cronaca del messaggero Abruzzo. Poi, dopo la pubblicità, riprenderemo con Gazzetta e Corriere dello Sport. E poi con le pagine sportive dei quotidiani abruzzesi. E vi proporremo anche alcuni servizi. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati con Mattino 6. Intera seconda parte dedicata allo sport. Con le pagine di Gazzetta Corriere, le pagine dei quotidiani locali. E alcuni servizi in particolare di Serie B. E allora, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, del Piero, da Juve. Col Bayern si può fare. I tedeschi è meglio affrontarli prima. Pogba porta bene il mio numero 10. Ma serve di più. Una grande tecnica non basta. Poi, in una grande tecnica non basta. E poi, sotto la testata, questa notizia di mercato. L'incrocio tra Inter e Juventus. Inter spunta Caceres tra Sala e Van Der Wiel. L'oruguayano in scadenza a giugno. I nerazzurri lo vogliono ora. Ranocchia, Santon e Dodò partono. L'ex capitano verso Bologna. Mercato rosso-nero. Il Milan riparte da Balotelli, Boa e Menessi. I primi rinforzi per Mika ci sono già. Diego Lopez piace in Inghilterra. I numeri del 2015, Higuain e Vasquez, gli uomini d'oro, tutti i record dell'anno in Serie A. Il Napoli ha tre uomini in testa. Il fantasista del Palermo comanda le classifiche. Dopo le minacce, quanti messaggi per le ragazze di Locri? Non dategli la vinta. In Serie B, il Cagliari vince. Ed è re d'inverno. Il Bari KO, Nicola al Capolinea. E poi ancora il commento di Stefano Boldrini, Premier, la lezione del 26 dicembre. L'analisi di Roberto Beccantini, il catechismo del Vate Murigno. E poi ci sono alcuni richiami. Il Barça in Corona messi. Il presidente Bartomeo dice vinciamo grazie a lui. Valentino e ora Luca, ma Marossi ci parla dei suoi gemelli in moto. Il giapponese Agnew, quando la perfezione pattina sul ghiaccio. E poi c'è questa due pagine, pagina 2 e pagina 3. Appunto con l'intervista a Del Piero, che torna su Pogba, il mio 10, lo porta bene. Ma alla Juventus serve di più. E poi pagina 3 da Michelle Azizu. Quanta poesia in quella maglia. Juve, un anno da sballo, tre trionfi e una finale. I bianconeri chiudono il 2015 straordinario. Oltre ai trofei, anche il primato di punti in campionato. E la miglior difesa, con 31 reti subite. Poi quest'altra due pagine, con i record del 2015. Tanto spazio anche per i calciatori del Napoli. Come vediamo, Higuain, Alan Amsic, Napoli numero uno. Shesny vola. Tony è in testa. E poi Superman Vazquez, il 10, che mena come un mediano. Poi avanti sul mercato, fronte Inter. L'ultima idea, Caceres, la Juventus lo svincolerà. Questo è il punto di domanda della Gazzetta. Poi il Milan, Balotelli, Menes, Boatenghi. Il Milan riparte da loro. Poi altre notizie di mercato, che impazza in questi giorni. Perotti, altro tango per l'asse magico tra Roma e Genoa. E poi un muro per Sousa, Alisandro o Fazio. Ovviamente parliamo di Fiorentina. Andiamo a vedere le pagine della Serie B. Il Cagliari è re d'inverno. Tre gol e il pieno di folla. Spazzata via la Proverciali. Un stadio tutto esaurito. Adesso il vantaggio sul terzo posto. è a più otto. Otto come il voto per Massimo Rastelli. Un voto che è un po' un giudizio su tutto il girone d'andata con il Cagliari che ha chiuso in testa alla classifica. Gli effetti della sosta è un pubblico che cresce nell'analisi di Nicola Binda. Andiamo a vedere gli articoli sulle Abruzzesi. Il Pescara in volo con Memushai. Fischiato il Latina. Il migliore in campo nell'analisi della Gazzetta è Benalì. Per lui voto 7. Voto 7 anche per Mitrizza. È entrato al posto di Cocco nel corso della ripresa. In basso si parla di Lanciano. Riecco, Mari Lungol. Il Lanciano spera. Il Livorno affonda. Voto 7 neanche a dirlo per il match winner Guido Mari Lungo che si è sbloccato dopo un'astinenza di oltre un anno anche a causa del grave infortunio. Ieri un Lanciano in emergenza che è riuscito a trovare questa importante, fondamentale vittoria. Diverse le sufficienze in particolare per Casadei, Boldor e Di Matteo sono le sufficienze più marcate. Tante insufficienze invece nel Livorno di Bortomutti. Avanti ancora. Mamma tutto gas. Vale medita la rivincita e sarà d'aiuto al fratello. Un figlio è già leggenda. L'altro al debutto in Moto2. Luca è elegante. In sella non soffrirà la pressione. A 37 anni Valentino si diverte ancora. Qui appunto questa intervista esclusiva alla mamma di Valentino Rossi. Lasciamo la gazzetta dello sport. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport. La prima pagina con il mercato sempre in fermento. Fabregas e Inter Juve. Mercato caldissimo. Si profila un clamoroso duello. Il fuoriclasse spagnolo rompe col Chelsea. Si apre un'asta sull'asse Milano-Torino. Il Cagliari è il re d'inverno. Tonfo Bari, addio a Nicola. Serie B in vacanza. Dopo una domenica spettacolare. Crotone da Favola. Volano Pescara e Avellino. Male, Salerno. Altri richiami di mercato. Vizzele al Milan trovati i soldi. Immobile lascia il Siviglia. Il Napoli va appunto su Ciro Immobile. Lo sbarco in Sicilia. Ecco Arteaga, Amo e Palermo. Da Ibra a Ronaldo, gli assi che cambieranno maglia. In basso, Garzia non si arrende. Vuole ridarsi il futuro. L'ombra di Spalletti non lo inquieta. Roma che domani torna al lavoro, certo, del rilancio. Premier League. United a Giggs aspettando l'arrivo di Mou. E poi il calcio a cinque. La squadra è ritirata per minacce. Coni e FGC in campo per le ragazze di Locri. Malagò e Tavecchio devono andare avanti. Lasciamo il Corriere dello Sport. Torniamo sulle pagine dei quotidiani locali. Ripartiamo dal centro. Ma in realtà ora analizzeremo le pagine sul Pescare. Vedremo anche il servizio della partita di Latina. Intanto il lunedì Sport del centro. Pescara e Lanciano dà applausi. Quarta vittoria di fila per la squadra di Oddo. Marilungo rilancia i Rosso-Neri in zona salvezza. C'è appunto l'analisi di Rocco Coletti, Biancazzurri e Virtus. Le due facce del 2015. E sì, è stato un 2015 decisamente diverso per Pescara e Virtus. Lanciano. Pallavolo di A2. Poker della Sieco in Pavida si impone anche col Tuscania. Rugby, gli Aquilani, Masi e Festuccia preparano l'anno del riscatto. Calcio a 5. Torna il campionato di Serie A. Domani Pescara alla riscossa. Basket di A2. Roseto e Chieti chiudono l'anno con il botto. E poi ancora per la LND Serie D. Chieti e Giulianova sul mercato per rinforzarsi. Rinforzarsi, eccellenza, la vastese vola e riconquista l'affetto dei tifosi. Promozione nello Stellati Prato. Rai il Delfino, il segreto delle capoliste. Parliamo ora di Pescara. Il botto di fine anno titola il centro. Prova di sostanza dei Biancazzurri che chiudono il girone. Andata al quarto posto. Primo tempo di sofferenza. Meglio nella ripresa. A Latina, quarta vittoria di fila firmata da Memushaia. Dieci minuti dalla fine. Le parole del tecnico Massimo Oddo. Stiamo diventando una grande squadra. Nel primo tempo eravamo poco convinti. Poi siamo cresciuti. L'augurio per il 2016. Giocare bene e continuare a vincere divertendoci. C'è un piccolo caso legato da Andrea Cocco. E alla sostituzione non gradita ieri dal centravanti Cagliaritano. Cocco esce deluso. Sempre colpa mia sarebbe stata la frase uscita dalla bocca di Andrea Cocco. Avanti Pescara. Sebastiani sorride. Vittoria meritata. Ma Memushaiai non doveva esultare in quel modo. Il presidente è soddisfatto. Un traguardo importante è quello dei 37 punti. Non nascondo che speravamo di arrivare così in alto. E siamo felicissimi di questo. Aresti. Siamo stati fortunati ma alle grandi squadre accade. Possiamo crescere ancora. Siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo. Per quanto riguarda il mercato. Oddo può avere Ecmaidat dal Brescia via Roma. Mercato allanciano diversi giocatori in partenza. Marilungo a Perugia. Via anche Mammarella. E poi ci sono le pagelle. Prima di vederle. Vediamo qui. Il Cagliari e il Crotone sono in fuga. Il Bari in crisi. Nicola sarà esonerato. A Salerno c'è Torrente a rischio. E torniamo alla partita. Alle pagelle 7 per Ugo Campagnaro. Il solito leader della difesa. Poi vediamo di 6,5 per Zampano. Subentrato all'infortunato Crescenzi. Benali, Verre, Memusciai. 5,5 per Caprari. 6 per Lapadula. 5,5 per Cocco. 6 per Mitrizza. Vediamo il messaggero Abruzzo. Le pagine, gli articoli dedicati alla tira Pescara. Pescara salto in alto. Memusciai stende in latina e regala ai suoi la quarta vittoria consecutiva. Girando a quota 37 del fino sotto ritmo nel primo tempo. Ma cresce nella ripresa. Il capitano segna e poi si fa espellere. Nel secondo tempo ottimo impatto sulla partita del giovane attaccante rumeno Mitrizza. Anche per il messaggero sul mercato il primo colpo può essere Ekmaidat. Avanti ancora con le dichiarazioni del post-gara. Oddo, bene ma non ci fermiamo. 37 punti sono tanti, più del previsto. Ora abbiamo imparato a soffrire. Stiamo facendo qualcosa di speciale con una squadra giovanissima ma possiamo crescere ancora molto. Fiamozzi e Aresti che personalità. L'ex Varesino ora la difesa è più affidabile e il portiere. Non mi sento una riserva. E allora possiamo andare a vedere il servizio di Paolo Renzetti su Latina Pescara e poi l'intervista al tecnico Massimo Oddo. Finale d'anno con il botto per il Pescara che espugna il Domenico Francioni di misura al termine di una vera e propria battaglia calcistica che ha messo in mostra la grande voglia di vittoria dei Biancazzurri che hanno prima sofferto nel primo tempo e poi preso in mano pian piano le redini del gioco. Nella ripresa per l'11 di Massimo Oddo sono tre punti di platino che arrivano prima della sosta che mai come questa volta sarà davvero meritata. In campo fra i Biancazzurri esclusione a sorpresa in difesa di Zampano rimpiazzato da Fiamozzi a centrocampo Verre in campo dal primo minuto con Memushai e Ben Ali con Cocco in attacco al fianco di Lapadula e Caprari più arretrato. Fra i Nerazzurri c'è in campo Lex Brosco con Corvia unica punta di ruolo. Laziali subito aggressivi con un tiro al lato dopo 30 secondi di Oliveira. Al dodicesimo si vede Dumitru dal limite ad andare a sfiorare la traversa con un tiro violentissimo. File Pescara ha qualche difficoltà a proporsi in avanti con i Nerazzurri che chiudono ogni spazio. Al ventesimo c'è l'infortunio di Crescenzi in un contrasto di gioco con Acostì con Lex Crotonese costretto ad uscire e con Zampano che va sulla fascia sinistra. Al venticinquesimo Cocco segna il gol del vantaggio Biancazzurro ma in fuorigioco e l'arbitro annulla. Al ventottesimo sembra fatta per i padroni di casa con Schiattarella che in aria fa tutto bene colpendo in pieno il palo con arresti battuto. Al trentottesimo punizione di Scaglia con il portiere del Pescara costretto a deviare in calcio d'angolo. Al quarantesimo nella Tinas infortuna Brusca Gine che viene sostituito da Mbaie. Nel recupero si vede poi Andrea Cocco che si gira e mira al sette trovando la parata in calcio d'angolo di Farelli. Nella ripresa al quarto bella giocata in aria laziale di Lapadula che poi tira centralmente. Al decimo Cocco esce dolorante e va in panchina tutt'altro che soddisfatto per la sostituzione. In campo a sorpresa va Mitriza con il Latina che non riesce a pungere come nel primo tempo. Al ventesimo c'è una buona opportunità per i padroni di casa con Oliveira che conclude a lato dai 25 metri. Più ghiotta l'occasione che capita al ventitresimo a Mitriza che in aria cicca clamorosamente il pallone. Il Pescara si rivede volte con Lapadula che la mezz'ora alza sopra la traversa dopo una deviazione e poi dopo qualche attimo tutto solo davanti a Farelli trova il miracolo dell'estremo di casa. Ma il vantaggio dei Biancazzurri è nell'area e arriva al 35esimo con Memushai che va ad esultare contro un microfono rimediando il secondo giallo e l'espulsione così come era accaduto a Novara, sempre ad opera del signor Abbattista di Molfetta. Il finale è di grande sofferenza ma nei 7 minuti di recupero non accade praticamente nulla con il Pescara che festeggia così il poker di vittorie chiudendo l'anno come meglio non poteva. Soddisfatto per questa quarta vittoria consecutiva, una vittoria di grande sofferenza però rispetto al primo tempo Oddo nella ripresa si è visto un Pescara che pian piano ha preso il dominio del gioco. Sì, io credo che l'abbiamo fatto anche nel primo tempo solo che eravamo poco convinti negli ultimi 30 metri abbiamo sempre provato a giocare palla a terra anche nel primo tempo siamo mancati negli ultimi 30 metri e probabilmente eravamo un po' troppo lunghi non accompagnavamo bene l'azione e mi sono un po' infastidito perché mi ero raccomandato con i miei ragazzi le loro armi erano un po' queste ripartenze con giocatori veloci e abbiamo concesso un po' troppo queste fasi di gioco. Nel secondo tempo siamo stati più convinti, siamo stati più cotti ma soprattutto abbiamo avuto quella voglia di vincere che ha fatto sì che ci scattasse qualcosina in più ma soprattutto sottolineo che sono contento per la maturità che sta assumendo questa squadra perché in campo adesso è una squadra vera che sa soffrire perché c'è da soffrire su tutti i campi però nei momenti di difficoltà viene fuori la grande e che oggi io vedevo la squadra, un po' tutta la squadra, giocare leggermente con passato capisco che abbiamo fatto tante partite in poche settimane quindi molti erano anche un po' stanchi però io dico sempre che quando sei stanco non devi correre tu ma devi far correre il pallone si può sempre migliorare ma l'ho detto prima la pecca nel nostro primo tempo sono state quelle poca velocità nella manovra e un po' troppo lunga accompagniamo un po' con l'azione quando incontri queste squadre che hanno questi giocatori veloci come Dimitru, Costi, Schiattarella le ripartenze sono bravi allora lì devi avere il coraggio anche di andare in avanti perché è vero che devi fare 10-20 metri in più in avanti però poi consenti a tutta la squadra di non farne 60 indietro di scatto la munizione è giusta secondo me perché è un po' una mancanza di rispetto a qualcosa di valore sicuramente qualcosa che è messo lì per il pubblico quindi sono gesti che non si fanno e giustamente pagherà adesso vado in vacanza poi fra 3-4 giorni parlerò con la società vedremo cosa ci sarà da fare ragazzi sapete benissimo quali sono le esigenze di questa squadra ma esigenze di tipo numerico non certo di qualitativo quindi vedremo cosa ci sarà da fare Dimitriz è un giocatore fantastico secondo me ha delle qualità immense tecniche immense è arrivato qui con una base di scuola tecnica sicuramente sopraffina perché ce l'ha e perché questo gli insegnano in questi paesi dell'est probabilmente era indietro ancora nella fase di non possesso nello stare in campo ci stiamo lavorando da cinque mesi si vede, si vedono i risultati ancora ampi margini di miglioramento è un giocatore che sicuramente ci tornerà utile l'ultimissima Oddo Pescara chiude il girone d'andata a 37 punti un ottimo bottino beh sono tanti 37 punti secondo me sono veramente tanti viste le premesse sono tanti in generale ma considerando il fatto che siamo una squadra costruita sulla base di tanti tanti giovani con tante difficoltà come Campagnaro che non ha potuto giocare tanto quindi questi vecchietti che si mettono a disposizione dei giovani e considerando il fatto che è una squadra completamente nuova rispetto all'anno scorso ci sono un paio di giocatori due o tre giocatori titolari che hanno sempre giocato io credo che abbiamo fatto qualcosa di speciale ma non ci dobbiamo accontentare la Virtus Lanciano nelle pagine del Messaggero stavolta sorride la Virtus battuto il Livorno grazie ai primi due gol stagionali di Marilungo adesso si torna a sperare nella salvezza formazione rimaneggiata poi si fa male anche piccolo sembrava la fine e invece no Boldor fanno piacere gli applausi dei tifosi Maio mercato deve ancora iniziare vedremo il giovane difensore rumeno finalmente non è più un oggetto misterioso il giorno di guido dovrò segnare tanto per ringraziare tutti il mister è un grande io sto bene qui ma chissà cosa accadrà a gennaio da Versa che bello l'abbraccio dei ragazzi o meglio le pagine del centro il rilancio il lanciano ritrova i tre punti capolavoro di Marilungo Livorno piegato play out a quattro punti il bomber segna su rigore e in rovesciata da Versa o uomini veri quell'abbraccio vale molto la doppietta la famiglia di Marilungo ai compagni e al procuratore il mio futuro non prometto nulla quando c'è il mercato può accadere di tutto qui ci sono le pagelle voto sette e mezzo per Marilungo molto bene anche di Matteo per lui voto sette poi diversi sei e mezzo per Paghera Bacinovic Boldor Di Francesco e Casadei e allora andiamo a vedere il servizio di Alessio Gian Cristoforo proprio sulla vittoria della Virtus Lanciano soffre soprattutto nei primi 45 minuti ma ritrova un sorriso solare il Lanciano che vede ancora la luce nello spiraglio un chiamato salvezza il mattatore del Guido Biondi contro il Livorno in piena crisi e un altro Guido Marilungo che alternerà un primo tempo opaco ad una ripresa sugli scudi tra le mille difficoltà e un futuro non certo nitidissimo con tanti punti interrogativi al novantesimo non parlerà nessuno della società e daversa alla domanda sul calcio mercato chiederà senza tanti giri di parola di rivolgere la stessa domanda alla proprietà il Lanciano batte 2 a 1 il Livorno ancora tante assenze in casa Virtus ultima delle quali quella di nome Carlo Mammarella e dunque difesa che gioco forza diventa 3 con Boldor e Rigione a comporre un tris inedito assieme ad Aquilanti come esterno a sinistra c'è Di Matteo in avanti Piccolo e Marilungo il Livorno ha i nomi giusti Mamutti oltre ai nomi vorrebbe sostanza che è l'unica cosa che conta Fischi a Baracani di Firenze avvio Virtusino nono minuto cross di Rigione in area di rigore ma nessuno aggancia pericolo labronico undicesimo punizione di Pasquato correzione di vantaggiato in porta risposta di Casadei in corner diciassettesimo suggerimento di Bacinovic per Piccolo ma l'aggancio non è perfetto ventunesimo Bacinovic ci prova senza effetti qualche minuto dopo è Pasquato a chiamare nuovamente in causa Casadei che para più Livorno che Lanciano dunque nel corso dei primi 45 minuti di gara l'avvio della ripresa è tambureggiante per i padroni di casa il Lanciano infatti nel secondo tempo creerà i presupposti per tre punti fondamentali e infatti dopo un quarto d'ora arriverà il vantaggio su calcio di rigore quattordicesimo entra in area di rigore di Francesco che viene stoppato calcio di rigore Baracani infatti indica il dischetto e dagli 11 metri Mari Lungo fa centro esultanza inequivocabile la squadra è tutta con Roberto D'Averzi più chiaro di così Frentani sul velluto il raddoppio arriva 120 secondi dopo e il gesto tecnico di Guido Mari Lungo merita solo una cosa il replay tutto il resto e Noia 2 a 0 e Lanciano sul velluto potrebbero dilagare i rossoneri Padovanni imbeccato da Di Matteo Ricci evita la terza capitolazione ma il colpo del KO che non arriva e allora cosa costa a Livorno rendersi pericoloso nulla infatti al 32esimo Bunino sfrutta una indecisione macroscopica della difesa virtussina e si presenta tu per tu con Casadei che è bravo e determinante a salvare il risultato gara senza soluzione di continuità minuto 35 il Lanciano sfiora il Tris con Padovan capovolgimento di fronte il Livorno accorcia 36esimo palla comoda per la testa di Bunino che elude l'intervento di Regione e supera Casadei non esente da colpe il finale di gara è comunque della Virtus che sfrutta due ripartenze e sfiora due volte il Tris con Padovan e Marilungo poi sei minuti di recupero e il tripice fischio finale liberatorio ora squadra da rafforzare senza se e senza ma e un po' più di chiarezza sul futuro Virtusino avvolto da una cortina fumogena di silenzi che fanno sorgere mille dubbi ai tifosi Virtusini ultimissimi minuti sempre sul centro per la Lega Pro Teramo Campiteglia vuole di rivoluzione partenze eccellenti in vista Cianciarelli Speranza Perrotta e Da Silva caccia un bomber Sanzovini il sogno proibito piace Infantino sul fronte l'Aquila si allontana Pesoli che piace alla Virtus Lanciano Spunta Ghinassi in prova c'è Chirieletti poi per la Serie D Chieti ottiene il prestito del terzino Pietrantonio il difensore della primavera del Pescara pronto a vestire la casacca nero-verde gli altri obiettivi sono il centrale Sebastianelli del Gaeta il portiere Mazzoleni per la pallavolo impavida poker ecco i quarti di Coppa ortonesi al quarto successo consecutivo trascinati dai propri sostenitori accorsi in massa a Montefiascone i parziali 23-25 23-25 poi in scioltezza il terzo set 16-25 le parole di Paoletti bella prova di squadra per il basket di A2 Abruzzesi ok Roseto torna a sorridere con le bombe di Allen domato un recanatico riaceo il sogno di tifosi continuo 88-73 alla sirena finale Trullo abbiamo vinto contro la squadra Tosta il coach guarda ancora la salvezza quando ci arriveremo penseremo ad altro straripante Allen 42 punti per lui 19 per Kyle Weaver per la progerchietti un regalo di Natale sul parquet di Matera lo scontro salvezza vai bianco-rossi match senza storie 59-89 con 20 punti di Allegretti e poi le parole in basso di coach Massimo Galli sapevamo come attaccarli per l'allenatore della proger la chiave del successo sono stati i tiri aperti per la serie B invece la Wirortona detta legge nel derby 77-47 la vittoria su Giulianova che resta in partita per un tempo poi la squadra di Sorgentone prende il largo e vince di 30 l'amatori si inchina alla capolista 71-81 solo per Metagari i pescaresi tengono il passo del Monte Granaro invece Campi ora è terzo da solo sesta vittoria consecutiva 68-90 sul parquet Salentino di Monteroni la BCC Vasto riaccende la luce la sfida fra le ultime battuto il Valmontone una vittoria che mancava dal 18 ottobre il finale 73-72 finiamo così questa nostra segna stampa la segna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti col TG ore 14 19 e 23 e vi ricordo anche l'ultimo appuntamento del 2015 con Replay la trasmissione di Enrico Rocchi che tracera un bilancio su questo girone d'andata del Pescara e più in generale su questo anno solare molto positivo per i biancazzuri in diretta dalle ore 21 dunque Replay grazie a voi che ci avete seguito in questa mattinata grazie a Gianni D'Areo in regia buona giornata grazie a tutti grazie a tutti